Il nostro territorio, il territorio Umbro, è stato oggetto in questi ultimi anni di una serie di aggregazioni bancarie che hanno portato una minore concorrenza, una minore presenza sul territorio, di conseguenza chiusura dei sportelli e in alcuni casi senza una regola ben precisa. In questo comune è stata chiusa negli ultimi anni l'ultima filiale presente, considerando che è un comune di 3.125 abitanti. La nostra iniziativa è volta a sensibilizzare un po' l'opinione pubblica, le istituzioni, la politica, perché comunque che si facciano carico anche nei confronti delle aziende dei bisogni primari dei cittadini, che si trovano sempre di più ad essere allontanati dalle loro possibilità di utilizzo delle filiali e quindi a non poter soffrire dei servizi. Grazie.